Mirta Merlino e il ministro Sileri. Allora, voglio specificare che non sono un medico, non mi metto in una discussione tecnica sui vaccini, però onestamente è un anno che parlo in televisione di questo, parlo tutti i giorni con medici di livello, con il professor Bassetti che viene spesso a trovarmi, e poi soprattutto mi sono andata a vedere le statistiche, no? Cioè, la prima cosa che dico è una cosa veramente proprio scema-scema. Oggi in Inghilterra un morto, vaccinazione di massa. Oggi in Italia 300 morti, dobbiamo ancora vaccinare un sacco di gente. Mi pare che sia, come dire, si veda occhio nudo, non c'è bisogno di essere un grande esperto. E poi vi cito qualche dato, perché me ne sono andati a cercare, perché sono veramente abbastanza colpita dal fatto che un professore, un ematologo, dica queste cose, perché mi sono andata a guardare un po' di numeri, no? E pilone anticoncezionali, le abbiamo usate tutte nella vita, un caso su 5.000 coaguli del sangue. Aspettate, ma c'è di più. Incidenti domestici, uno su 7.100 provoca incidenti gravi. 7.100, cioè ti fai più male in casa. I vaccini, AstraZeneca, parliamo di un caso su 250.000, se non sbaglio, giusto? Ministro, stiamo parlando di numeri che hanno un senso, quello del professor Bellavita e quello di Milton Merlino. Di questo tipo, quando abbiamo un problema enorme di vaccinarci tutti prima possibile, cioè per me è un discorso un po' male.